. Doven Stephanie, ecco come Adam Levine ha descritto l'amore per Blake. . È un commento scherzoso, quello che Adam Levine ha fatto nei confronti di Doven Stephanie e di Blake Scelton nel corso della trasmissione The Howard Stern Show, lo scorso martedì sera. Sembra infatti che, la coppia, sia molto affettuosa. . Forse persino troppo. . Un affetto esagerato. . Sono così innamorati da essere disgustosi, ha descritto così, Adam Levine, i suoi amici Doven Stephanie e Blake Scelton. . È così divertente. Si sono trovati in un momento molto interessante della loro vita, e questa cosa è bellissima, ha poi aggiunto. . Perché, il leader dei Maroon 5, di quella coppia è quasi un fan. . Ed è davvero felice che due dei suoi più cari amici si siano trovati, e innamorati. . 41 anni Blake Scelton, 48 Gwen Stephanie, i due si sono conosciuti durante la trasmissione TV Tevoice, di cui entrambi erano giudici. . . Fanno coppie dal novembre del 2015, da quando hanno iniziato ad uscire insieme entrambi reduci da un divorzio doloroso, Doven aveva appena lasciato il cantautore e chitarrista Gavin Rostale, fondatore della band Post Grunge Busche Institute e considerato uno degli uomini più sexy del pianeta, Blake usciva dal matrimonio con la cantante Miranda Lambert. . Poiché la loro relazione era sotto l'occhio di tutti, molte persone si sentivano in diritto di esprimere la loro opinione nel bene e nel male. . Io quella loro storia l'ho vissuta, la vivo ancora oggi. . . . . . . . . Peraltro, nonostante sia il suo migliore amico, all'inizio Blake gliela nascose quella relazione. . Adam sospettava stesse insieme a Doven, ma lui teneva la bocca cucita. . . Ha mentito a tutti noi per moltissimo tempo, racconta il frontman dei Maroon 5. . 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 Che quasi non sapevi che fossero in contatto, e questi iniziano a baciarsi, ha ricordato. Per poi confessare di non avere idea, se Blacke abbia o meno intenzione di chiedere la mano di Gwen Stefani. Spero che mi invitino, in caso. Sono due tra i miei più cari amici, ha scherzato. Intanto, Adam si gode la seconda gravidanza della moglie, la supermodella di Victoria's Secret Beatty Prinslow. Che, col pancione, è ancora più sexy. E di cui lui è innamoratissimo, sebbene ritenga di non essere sdolcinato ai livelli di Blacke Shelton e che, fresco di lancio della nuova linea d'abbigliamento BS by Blacke Shelton, ha di recente parlato del rapporto tra Gwen Stefani e i suoi vestiti. Quando sei da Gwen, non chiedi, semplicemente, prendi ciò che vuoi. È la benvenuta nel mio guardaroba, e penso che con un paio di gonne scozzesi che ho disegnato starebbe davvero bene. . . . Grazie a tutti.